Buonasera. Si capisce bene? Sono un neurofisiologo, vi parlerò del cervello. Per parlare del cervello spesso si usa dei grafici, delle figure, perché la scienza appunto si serve di dimostrazione, cerca di portare i fatti. Qui non è possibile, cercherò di supplire. E tanto per supplire comincerò con ricordare dei versi di una poetessa americana che parlò anche del cervello, una lirica molto religiosa, che a proposito del cervello scriveva in una sua prima cosa, più di cento anni fa, il cervello è più grande del cielo perché pone di fianco a fianco l'uno l'altro includerà con facilità e con te accanto. Appunto perché il cervello è il nostro mondo, tutto quello che vediamo, tutto quello che sentiamo è cervello. E le nostre relazioni con il mondo sono veramente bionivoche perché noi abbiamo, il cervello è il nostro sede, è l'ambiente, sono i nostri stimoli. Bisogna tenere presente che il cervello senza stimoli è un cervello praticamente in coma. Quindi il cervello ha bisogno degli stimoli proprio per vivere. E quando partono gli stimoli partono infinite catene molecolari che sono il suo metabolismo, la sua vita. senza questi stimoli il cervello, diciamo, va in coma se non muore. D'altronde quando il cervello guarda il mondo lo guarda con delle sue proprietà particolari perché il cervello non è una macchina che vede tutto, per esempio non ha l'acuità visiva dell'aquila o l'olfatto del topo o l'udito anche di un ratto di un topo che hanno un udito molto migliore del nostro e così via. Quindi lo vede attraverso una sua finestra, è un mondo ridotto, lo vede attraverso una sua macchina particolare. Quindi è un suo mondo, il mondo del cervello, di questo cervello. E siccome lui, questo cervello, questo uomo diciamo col cervello, ha per geni una sua unicità in quanto i geni di ognuno di noi sono unici, non ce n'è un altro uguale. E oltre a questa unicità, diciamo, data dalla natura, c'ha un'unicità personale perché anche lui guarda il mondo col suo cervello e quindi ha una visione del mondo tutto personale. E per riassumere questo c'è una storia che racconta Borges e che mi sembra riassuma bene quello che io vi stavo dicendo. C'è un signore che decise di disegnare il mondo. E si mise lì e disegnò le province, poi disegnò gli animali, e poi disegnò i cavalli, leoni, gli alberi, tutto quanto. Ed aggiungeva, aggiungeva, aggiungeva. E quando giunse in fin di vita riguardò tutti questi scritti che aveva fatto e si accorse che aveva disegnato il suo volto. Cioè perché tutto è per dire l'unicità, l'unicità appunto del mondo, quindi vitalità del cervello. Io vi parlerò del cervello sotto due aspetti particolari. Uno che riguarda il bambino, come si costruisce il cervello del bambino, un cervello del tutto particolare, che rimanda a riflessioni che ognuno di noi deve fare, perché il cervello del bambino è veramente molto particolare. E poi invece farò un salto e parlerò del cervello del vecchio. E qui siamo più nella medicina, siamo più verso la patologia. E cominciamo dal cervello del bambino. E anche qui mi piace cominciare con una storia. Una storia che io ho preso da Gould, Gene Stee Gould, che ho avuto la fortuna di conoscere, di avere come ospite, e che racconta questa storia che lui prende poi da un'altra, eccetera, ma che è una storia carina, che dice il Signore decise di fare tutti gli animali. E cosa fece? Fece tanti embrioni, che poi si sarebbero sviluppati. e poi fece il leone, la giraffa, il topo, il cane e l'uomo. E fatto questo aspettò un po', poi chiamò a sé tutti questi animali e disse ma tu leone che specializzazione vorresti fare in questo mondo che io ho fatto? E il leone disse ah io vorrei essere il re della foresta, avere potenza, eccetera, eccetera. e il Signore disse bene, così va bene. E poi venne la giraffa e disse cosa vorresti tu? Ah dice io vorrei avere un lungo collo perché così posso nutrirmi del cibo a cui altri non arrivano. Bene, brava, e così via. E così il cane, e così il topo. Ma l'uomo non ci andò. Ma il Signore si mise lì a aspettare e aspetta, aspetta un po', si impazientì. E richiamò l'uomo, disse uomo, ritorna. E disse ma io ho chiamato tutti gli altri animali, ho detto loro di prendere, e tu cosa vuoi, perché non sei venuto? E lui, l'uomo, disse ma se embrione mi hai fatto è segno che hai pensato che fosse bene. Io, embrione, voglio restare. Bene, disse il Signore, mi sembra questa una buona decisione. Embrione, resterai. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che embrione le prime cellule, c'è da svilupparsi, c'è da imparare, c'è da far tutto. E infatti il bambino, diciamo, ha una grande possibilità di imparare. Il cervello del bambino è un grande cervello, mantiene proprio questa possibilità. E la mantiene per lungo tempo. Ci sono animali che, tutti i mammiferi ce l'hanno, ma chi ce l'ha per un mese o due, come il topo, il ratto, chi per cinque o sei mesi, come le scimmie, chi un po' di più. Ma l'uomo sono anni e anni che mantiene questa grande possibilità di imparare. Per tutta la vita lo mantiene, anche se in tono minore. Anche se in tono minore. Pensate quindi al bambino come un cervello potentissimo. e di fatto se andiamo a vedere il substrato, diciamo, di questa potenza, ci si accorge che c'è un substrato che non si nota nel mare delle ipotesi, ma dei fatti. E quali sono questi fatti? Si nota che tutti questi neuroni che ci sono, miliardi e miliardi di neuroni, si connettono fra loro con una cosa che voi sapete, ma che io vi ripeto per introdurvi, che si connettano con delle piccole congiunzioni che si chiamano le sinapsi. Queste sinapsi sono molto di più dei neuroni, perché un neurone può avere mille, ma anche diecimila sinapsi. E queste sinapsi sono il punto cruciale del cervello. Il neurone è un po' il boss, quello che decide il metabolismo, ma là dove si decide il messaggio, se passa o non passa, sono le sinapsi. E di fatto c'è una correlazione, diciamo, fra sinapsi e potenza cerebrale.